Ritorniamo in studio con la nostra rassegna stampa, andiamo a scoprire la prima pagina del messaggero, anche in questo caso il titolo principale dal Regno Unito si ha Brexit, la Scozia però non ci sta, via libera dal Parlamento britannico al distacco da Bruxelles, oggi May attiverà l'articolo 50, lo strappo intanto di Edimburgo, referendum bis sulla secessione entro il 2018 e Londra si oppone, la Gran Bretagna è pronta a imboccare la strada dell'uscita dall'Unione Europea ma la Scozia non ci sta e si aggrappa all'idea di poter uscire dal Regno, ipotizzando un referendum bis sulla secessione fra il 2018 e il 2019, il Parlamento britannico ha dato il via libera al distacco dall'Unione Europea, Theresa May attiverà l'articolo 50, intanto dice no alla Scozia, la Sturgeon ha infatti detto che agli scozzesi deve essere data la scelta tra una Brexit dura e l'indipendenza. Relazioni sospese con l'Olanda per la Turchia, anche a ralza la posta sui migranti, gli accordi con l'Unione Europea da rivedere, ha alzata la posta dalla Turchia l'accordo con l'Unione Europea sul controllo dei flussi di profughi alle frontiere, potrebbe essere messo in discussione e la risposta al divieto di tenere comizi in molti paesi dell'Unione, relazioni sospese con l'Olanda. I no europei calpessano lo Stato di diritto, che cosa sia oggi l'Europa nella sua trasformazione impetuosa e rapidissima sotto i colpi di una vera e propria crisi di identità culturale e morale, lo si può dedurre riflettendo sui fatti d'Olanda e di Turchia, scrive Giulio Sapelli, ossia sul conflitto tutto politico tra un governo europeo e il presidente di una nazione sempre oscillante tra la decisione all'Europa e la ripulsa della medesima, per incardinarsi nel punto archetipale dell'Evrasia che radia l'Interlanda del mondo islamico ottomano e costituisce il cuore del potente mondo euro-asiatico. Guai se questo punto oscilla dall'una o dall'altra parte sino a perdere ogni rapporto con la sponda che sta di fronte a ciascuna delle due e tuttavia è ciò che potrebbe accadere con il referendum che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha indetto per consolidare i suoi poteri dopo il colpo di Stato che qualche mese fa ne minò la permanenza alla guida del paese. Per vincere il referendum Erdogan ha assolutamente bisogno del consenso delle minoranze turche che vivono e lavorano da più di un lustro nelle potenze economiche europee, prima fra tutte la Germania, l'Olanda, la Danimarca, il Belgio. Vistosi rifiutato il permesso di far incontrare i politici a lui fedeli con il popolo turco che vive in Europa, Erdogan ha alzato la posta, prima con accuse di nazismo al governo olandese e poi inviando con una mossa diplomatica non proprio ortodossa ministri del suo governo a visitare le minoranze turche ovunque insediate. A centro pagina il calcio, la corsa alla Champions della Lazio, punti d'oro, la Lazio che batte il Torino per 3 a 1 nel posticipo del lunedì, si riprende il quarto posto e la grande notte di Keita, proprio il monello che in settimana aveva fatto parlare di sé in negativo per la festa a Barcellona, il senegalese disegna un arcobaleno bianco celeste che si infila alla sinistra di Hart, incolpevole, ma prende gol sempre da quel lato e rilancia la Lazio al quarto posto in classifica. Intanto nel taglio centrale un tunisino amico di Amri a caccia dei nostri poliziotti, cercava gli agenti che fermarono il killer di Berlino ed è stato espulso. Voleva rintracciare i due poliziotti che hanno fermato e quindi ucciso Anissa Amri quando una settimana dopo l'attentato di fine dicembre a Berlino, il giovane tunisino si è dato la fuga dirigendosi verso l'Italia e sbarcando a Sesto San Giovanni. Stava facendo di tutto per trovare i poliziotti, soprattutto tramite una costante ricerca via internet per minacciarli o forse peggio. È stato questo l'elemento decisivo che ha portato all'espulsione di Isham Alabi, 37 anni, tunisino residente con permesso di soggiorno in Italia dal 2011. Il processo mafia capitale, Buzzi ecco i politici che ho pagato, intanto il saluto romano in guai a Carminati, il fiume in piena, Salvatore Buzzi non si arresta, il braccio destro di Massimo Carminati parla per più di 7 ore, nell'aula bunker confessa di aver pagato amministratori e politici e si dice pronto a ricostruire tutti i versamenti. In dettaglio basso, niente figlia per i genitori nonni, la Corte d'Appello sono inidonei ad allevarla, abbiamo già parlato ampiamente di questo caso, in caso di Roma invece l'ok dei giudici all'adozione gay di due mamme, anche di questo abbiamo già parlato, intanto invece il Presidente dell'Istat risponde al messaggero, troppe statistiche, inevitabile, l'articolo di Osvaldo De Paolini e Marco Fortis, una proposta per fermare l'overdose di statistiche e del 4 marzo affronta un tema importante che gli istituti statistici hanno presente, gli esempi ripresi dagli autori, la nota sulla congiuntura e la comunicazione trimestrale sul mercato del lavoro prodotta congiuntamente da Istat, Ministero del Lavoro IMSS e INAIL rispecchiano lo sforzo dell'istituto di porre attenzione alla costruzione e diffusione di informazioni statistiche accompagnate da analisi per facilitare una lettura integrata dei dati. E poi auto bianche ferme il 23 marzo, salta la tregua dei taxi, sciopero dal governo nessuna proposta, altro che dialogo, i taxi non ci stanno e tornano a scioperare, un servizio che garantisce un diritto essenziale come la mobilità non può essere abbandonato alle mire di grossi gruppi economici e devastato dall'abusivismo, hanno fatto sapere. Le auto bianche. Continuiamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del tempo. Boom di teppisti metropolitani, ecco il dossier centri sociali, l'antiterrorismo dal Veneto alla Sicilia, i segreti dei vandali, delinquenti napoletani fermati dopo gli scontri sono già liberi, devastano città, vetrini di negozi e banche, infieriscono sui nemici, impediscono di parlare, scendono in piazza rabbiosi, lanciano molotov e bombe carta, sono i centri sociali più pericolosi che negli ultimi anni si sono resi protagonisti di tante violenze, circa 200 strutture autogestite, intanto i black bloc che hanno devastato Napoli sono già tornati liberi. Anche qui genitori nonni, biotestamento e gay, pazza Italia, titola il tempo, il mondo al rovescio, il pezzo di Marcello Veneziani, a centro pagina invece il calcio con la Lazio che vince 3 a 1 sul Torino, Toro Matato, Lazio quarta, i bianconcedessi battono in granata 3 a 1 e si ritrovano a meno 4 dalla Champions, capitale in crisi, residenti infuriati per i lavori infiniti, la Metro C cancella i negozi, poi parla l'ambasciatore turco in Italia, l'Europa a rischio destra xenofoba, delitto Vannini, il processo sulla morte del giovane diventa un caso di famiglia, papà, mamma, fratelli, fidanzata, nei guai per l'omicidio di Marco, il PD con i tre tenori, Renzi, Emiliano e Orlando, gara all'ultima sparata. Andiamo adesso invece ad aprire la pagina romana del Corriere della Sera, le notizie dalla capitale, ultima invenzione del Campidoglio, il segreto di stadio, l'avvocatura nega ai consiglieri l'accesso agli atti che tempi quelli del Palazzo di Vetro, lì non la trasparenza che solo la nuova impronta a 5 Stelle, dicevano i grillini, sarebbe stata in grado di dare al Campidoglio, in realtà però i muri del Palazzo hanno fatto presto a tornare di cemento quello dello stadio. C come contrordine si va oltre il Colosseo, una nuova travagliata linea della metro, un parziale passo indietro negli intenti, un possibile passo in avanti nel progetto. La giunta del Movimento 5 Stelle rivede la sua posizione sul tragitto della metro C che ora nuovamente potrebbe avere Piazzale Clodio come approdo finale. Il futuro della terza linea dopo San Giovanni mi sono fatto la mia idea, dice il Presidente della Commissione Mobilità Enrico Stefano, credo che bisognerà fare degli sforzi per farla proseguire oltre Colosseo lungo il tracciato originario. Mafia Capitale, adesso Buzzi tira in ballo Goffredo Bettini, la deposizione shock chiese soldi e lui querela, Salvatore Buzzi lo aveva annunciato, farò il nome di tutti quelli che mi hanno chiesto soldi e gli era cominciato dal primo, l'eurodeputato Goffredo Bettini, gli diedi 31 mila euro in chiaro per presentarmi Gianni Letta e Bettini, inaccettabile, tutto falso, lo querelo. Il re delle coppe ha parlato anche di Luca Odevaine, col senno di poi era un blef e di Nicola Zingaretti un ingrato. Ma ieri è stato anche il giorno in cui il tribunale ha inviato in procura le immagini dell'ultima udienza in cui Massimo Carminati in carcere dall'inizio dell'inchiesta ha fatto il saluto fascista. A centro pagina le foto che ritraggono i furbetti dei varchi ZTL, chi entra a contromano, chi a retromarcia, mostrano i trucchi, due contromano e uno in retromarcia, i furbetti della ZTL al varco tra via Cavour e via di Santa Maria Maggiore, ieri hanno girato diverse volte l'occhio delle telecamere rischiando l'incidente e la multa. Al varco non era presente nessun vigile nonostante la promessa del presidio e i controlli effettuati le scorse settimane con il ritiro di 16 patenti. La multa è di 321 Euro per il contromano e 81 per la ZTL senza permesso. Ci fermiamo adesso, il tempo a nostra disposizione è terminato, vi ringraziamo come sempre per essere stati con noi e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con l'informazione. Arrivederci. Grazie.